Una meditazione. I fratelli dello spazio attraverso Wanda, 8 novembre 2007, a cura di VB. Salve, creature mie dilette. Lascio alla vostra riflessione tutte le parole che avete ascoltato. Ora vorrei però iniziare a insegnarvi una meditazione che ancora non conoscete. Per pochi minuti vi consiglierò e vi guiderò per questo piccolo tratto di movimento spirituale. Iniziamo. Ho inondato i vostri corpi di energia. Chiudete gli occhi e cercate di immaginare tanti colori e molti bei fiori che vi riempiono di gioia. Mentre io vi aiuto a raggiungere il movimento eterno, facendovi salire sempre più su verso l'infinito, fin dove voi potete arrivare. Tenete sempre gli occhi chiusi per non distrarvi da questo momento sublime in cui vi induco a riflettere e a gustare la dolcezza di questi istanti. Ecco, avete raggiunto un punto luminoso, ma non potete oltrepassarlo, non essendo consentito per legge, poiché avete ancora bisogno di un involucro e non potete lasciarlo. La vostra mente si sconvolge perché sente la forza che in questo momento la domina. Ed ora, creature, lasciatevi andare, ritornando pian piano nel vostro stato umano e aprite gli occhi. Creature, ho guidato per pochi minuti la vostra meditazione, perché deve essere eseguita nel modo giusto, senza né affrettarsi né voler raggiungere subito il massimo. Dovete procedere gradatamente, se volete ripeterla quando siete in grado di concentrarvi, provateci, ma non oltrepassate il limite consentito dalla legge.